Alessandro, oggi è stato veramente un assaggio di calcio importante fra due squadre in salute che arrivavano a questo scontro con la voglia di superarsi, perché se davanti la marcia rallenta un po', l'appetito dietro cresce. Ne è nata una grande partita, merito, come diceva il mister, a tutta la squadra, ma in particolare alla difesa, perché oggi si è rischiato veramente pochissimo contro una delle grandi di questo campionato. Certo, siamo venuti qua con grande rispetto per questa squadra, che sappiamo giocare uno dei migliori calci a categoria. Siamo partiti, secondo me, molto bene, abbiamo tenuto una buona organizzazione per tutta la partita, quindi secondo me usciamo soddisfatti, soprattutto per l'atteggiamento e anche con qualche rammarico per qualche occasione che abbiamo avuto. Questo è un Carpi che anche per necessità sta giocando davvero con tanti tanti under in campo, specialmente dal primo minuto, giocatori che si adattano, insomma tu e Matteo Boccacini siete un po' le chiocce di questi ragazzi, anche il portiere è molto giovane, però la sensazione è che da qualche settimana sia tornata quella convinzione nei propri mezzi che era poi stato quello che era mancato nel piccolo blackout. Certo, abbiamo dei ragazzi giovani che stanno dimostrando tutto il loro valore, infatti va fatto loro i complimenti, sia chi gioca sia chi entra, veramente hanno tutti grandi disponibilità e stanno dimostrando il loro valore. Quindi insomma, dobbiamo assolutamente continuare così. Probabilmente a detta di tanti sei stato il migliore in campo, oggi non hai fatto vedere palla agli attaccanti, c'erano giocatori importanti, Variale Caprioni in modo particolare, poi anche Biancheri è entrato a fare un po' la guerra lì in mezzo a voi. È comunque un reparto, quello del Carpi, difensivamente molto molto vasto, forse quello che necessita di minore attenzione da un punto di vista dell'emergenza, perché insomma ve la giocate praticamente alla pari e siete quattro centrali molto forti. Certo, ti ringrazio, comunque credo che tutta la fase difensiva oggi della squadra sia stata fatta in modo impeccabile, perché credo che non sono frasi fatte, ma insomma parte dall'attacco il nostro difendere bene di queste ultime partite, e quindi c'è da fare veramente i complimenti a tutti dagli attaccanti centrocampisti che mettono noi difensori nelle condizioni di poter difendere al meglio. L'ultima domanda riguarda invece il rapporto con i tifosi. Sì, oggi c'è stata una bella manifestazione al termine della gara, i tifosi vi hanno premiato per quella che è stata una grande prestazione. Si sa che a Carpi si chiede sempre il massimo, però probabilmente i tifosi oggi hanno capito che la squadra sta esprimendo in generale nel periodo il massimo sforzo possibile. Certo, i tifosi vanno solo ringraziati perché soprattutto in questo momento ci stanno facendo sentire un grande affetto come hanno fatto durante tutto l'arco della stagione. In questo momento abbiamo bisogno di loro, li ringraziamo e speriamo non ci facciano mancare il loro supporto fino alla fine del campionato e sono sicuro che sarà così.